Fratelli carissimi, oggi è sabato santo, il sabato del silenzio. È un giorno che ci piace poco, lo scivoliamo su questo giorno così, tante volte così, stretto com'è, come un hamburger in un panino, tra il venerdì santo e la veglia pasquale e la Pasqua. È difficile entrare profondamente nel mistero di questo giorno, che è un giorno impressionante, è l'unico giorno in cui praticamente non è previsto comunicare al corpo e al sangue di nostro Signore Gesù Cristo, supposto che la veglia termini all'alba della domenica. È un giorno che fa presente la nostra realtà più profonda. Sono persuaso che il sabato santo è l'approdo di tutto il cammino quaresimale, è il vero approdo, l'autentica stazione finale del cammino dei catecumeni, di coloro che si preparavano al battesimo. Perché? Perché è l'approdo della vicenda interiore di Davide, per esempio. Davide, che aveva ricevuto tante grazie, che era stato eletto, scelto, chiamato, fortificato, per essere il re, il condottiero di Israele, deve scoprire con una semplice parola, con una semplice frase, di fronte al profeta Nathan, quello che c'è davvero nel suo cuore. Ho peccato. Un istante prima aveva detto, aveva risposto a Nathan, al profeta, che gli raccontava la storia di un uomo ricco che aveva molte pecore, che aveva un greggio molto numeroso. si avvicina a un povero pastore con una, due pecore, e gli ruba, gli prende, gli sottrae quell'unica pecora, unica fonte di sostentamento. Davide è irritato a sentire questo, dice, ma questo uomo ricco deve morire, ha fatto un'ingiustizia terribile. Bene, Nathan gli dice, quell'uomo sei tu. In quel momento Davide comprende quello che ha fatto con Bezzabea, la moglie di Uria, lui che aveva un harem, ma si invaghisce, impazzisce per questa donna che vede fare il bagno nuda dalla terrazza, trama, macchina, crea varie occasioni. Alla fine si unisce a questa donna e fa uccidere in battaglia Uria per coprirsi le spalle, casomai rimanesse incinta. Bene, la figura di Davide oggi ci accompagna in questo giorno di sepolcro, di morte. Salmo 50, il peccato mi ha concepito mia madre. Il peccato significa morte, fratelli, quindi si può dire che mia madre, mia madre nella carne, mi ha concepito nella morte. È una cosa assurda, però è quello che sperimentiamo tutti i giorni. noi personalmente, la storia, le guerre, gli attentati, gli incidenti, le catastrofi naturali. La morte è in agguato costantemente, ma non soltanto la morte, diciamo, esteriore, non solo la morte fisica, sino la morte interiore. Di fronte a un evento difficile, di fronte a un evento doloroso, scopriamo di essere vuoti, scopriamo di non avere risorse per rispondere. Ieri abbiamo celebrato l'adorazione della croce. A me ha aiutato molto, perché ho pensato a una cosa, perché tante volte l'immagine della croce ci fa così orrore? Perché a tanti risulta indigesto è difficile il film The Passion di Gibson? Perché chiudiamo gli occhi di fronte alle immagini, per esempio, della fustigazione o altre immagini terribili, crude, cruente, il sangue sembra che esca dallo schermo? Perché? Non abbiamo non abbiamo idea di quello che forse alcuni che hanno letto qualcosa, ma non abbiamo idea di quello che significava la crocifissione. Davvero il profeta Isaia lo dice colui davanti al quale si copre il volto, parlando del servo di Iave, non ha aspetto d'uomo né bellezza nel quale compiacerci è un relitto d'uomo, ha perso tutta l'immagine dell'uomo, uomo dei dolori, che conosce bene il patire, sfigurato, irriconoscibile, come accadrebbe, per esempio, a una persona coinvolta in un incidente frontale sull'autostrada, difficilissimo riconoscerla. Ecco, questo era Gesù Cristo sulla croce, le persone non potevano sostenere la vista di un orrore simile sia per la violenza accanita sulla persona crocifissa sia per il risultato di quella violenza, qualcosa che inquieta, che distrugge la sensibilità di chi lo guarda. Bene, questo scandalo, questo orrore con il quale noi guardiamo Gesù Cristo, da dove viene? perché non riusciamo davvero a sostenere la vista della croce, della croce del nostro Signore Gesù Cristo, che poi è la croce che viene a noi attraverso i fatti, gli eventi, le situazioni per cui scappiamo dalla croce, per cui non possiamo sostenere il peso. 50 kg era il palo caricato su quelle pelli, leggendo gli studi di alcuni medici, è veramente raccapricciante pensare a quello che ha sopportato quello che ha vissuto, sia dall'agonia, dove tutti i capillari per la tensione impressionante che si era prodotta a livello interiore aveva spaccato quei piccoli capillari che passano sotto cutanei, che sono sotto cutanei e questo è il sudore di sangue, poi le frustate terribili con il flagellum, con queste pallette di ferro poste alla fine delle corde, strappavano le carni, ematomi, ematomi, sangue, 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 ferite costanti, la corona di spine, il cuoio capelluto quando è percosso da una spina, da qualsiasi ferita, comincia a sanguinare senza finire proprio fiotti di sangue, poi la croce e poi le cadute 700-800 metri che era la distanza tra il pretorio e il Golgota le cadute quindi la polvere i sassi che si mettono dentro le ferite immaginate, immaginate, è una cosa impressionante poi quella tunica prima messa e poi strappata come quando tu strappi una una benda immagina una benda piccolina su una piccola ferita quando la togli ti fa male quando strappi immaginate tutto il vestito appiccicato che deriva a questo misto di sangue di polvere di terra di pelle strappatoria è stata una cosa impressionante poi i chiodi che sulle mani perforano un nervo che arriva dritto 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 al cervello deve essere secondo i medici il dolore più acuto che possa sopportare o possa sentire provare una persona dovrebbe normalmente svenire e quel dolore poi ripetuto perché issato sulla croce quel nervo non era completamente spezzato quindi era come una corda di violino che costantemente veniva toccata pizzicata a ogni piccolissimo movimento incapace di poter neanche appoggiare la testa al legno della croce perché la corona di spine aprirano uno spessore per cui si appoggiava sulla stessa corona quindi ancora di più quindi questa testa sempre avanti le braccia distese quindi i polmoni pieni di aria incapaci di espellere l'aria quindi questo senso di affogamento costante come una persona che ha un asma ma ai livelli altissimi durante tre ore durante tre ore fratelli carissimi durante tre ore e poi quelle poche volte sette parole che Gesù ha detto sulla croce lo sforzo immane che ha fatto Gesù issandosi leggermente per poter spellere un pochino l'aria fissando i piedi su quel supporto che aveva sotto di essi cercando di issarsi per poter fare un piccolissimo respiro e pronunciare quelle parole perché le doveva pronunciare doveva dire padre perdonali perché non sanno quello che fanno e questa agonia terribile fino a che poi ha espirato ha fatto una cosa brevissima perché questo è quello che noi vediamo è quello che ci fa orrore è quello che accade alla nostra vita come fratelli a me aiutava pensare a una cosa che dalla croce Gesù ci ha visti esattamente così crocifissi come lui ieri oggi Gesù Cristo dalla croce ti vede come lui come tu vedi lui lui è il tuo specchio lui è diventato così come un uomo che ha perso la dignità ha perso la figura ha perso la forma di uomo leggete Isaia 53 quello che tu vedi hai visto in Gesù Cristo quello che puoi immaginare in Gesù Cristo quello che tu vedi nella tua storia quella relazione difficilissima con tuo marito il problema economico la malattia qualsiasi evento qualsiasi situazione che ti crocifigge che ti strappa le carni che ti frusta che ti fustica che ti inchioda che ti fa entrare dentro al cervello queste spine perché non riesce a capire non riesce ad afferrare cosa sta succedendo ebbene tutta la croce che tu vedi che tu hai davanti è ciò che Gesù Cristo dalla croce ha visto e vede in te Gesù Cristo Gesù Cristo vede te come lui crocifisso per questo ti scandalizza per questo non lo sopporti Gesù Cristo ha dovuto assumere tutto quello per diventare come te per scendere alla deformazione alla distruzione che noi abbiamo operato nella nostra vita gli occhi tu me fatti ha preso una si vede benissimo nel nel film La Passione perché perché è l'uomo della Sindone e deve aver preso una bastonata che gli ha spaccato il naso e gli ha tumefatto l'occhio destro questi occhi che vanno quasi ribrezzo del Signore nostro Gesù Cristo ebbene sono i tuoi occhi fratello caro sono i miei occhi quante concupiscenze con quegli occhi gli occhi di Eva che ha visto il frutto e lo ha ritenuto bello con la vista si è invaghita di quel di quel frutto si è lasciato sedurre per prendere allungare la mano e poi morire gli occhi che sono stati che sono dati per parlare per guardare le meraviglie del creato per guardare le persone come fratelli le donne come sorelle dice San Paolo le più piccole come sorelle le più grandi come madri e invece pornografia pornografia autentica quella che si entra nel computer si è la pornografia più terribile o la pornografia che che ci fa guardare le persone con quella con quel sento di possederle di scoprire di spogliarle non parlo soltanto sessualmente i maschietti sanno di cosa sto parlando dai su il 99,9% degli uomini quando vedono una ragazza una bella donna il primo istinto su è immaginarla e le donne molte volte si vestono per aiutare questo ma è lo stesso questi occhi che che mi sono stati dati per contemplare Dio nella creazione quindi Dio nelle sue creature contemplare l'opera di Dio in tua moglie in tuo marito nei tuoi figli sono sporchi tu me fatti dal peccato dalla menzogna dalla concupiscenza per cui li guardi li sorridi ma è perché li vuoi possedere perché vuoi farli tuoi perché vuoi portarli al tuo ragionamento li vuoi portare alle tue idee vuoi piegare le persone servirti delle persone le mani le mani che hanno questi polsi inchiodati con questo nervo che ti dà delle stilettate che non puoi sopportare sono le tue mani sono state date per lavorare per scrivere per aiutare per abbracciare per prendere la mano e accompagnare per risollevare e invece risulta che con quelle mani tu uccidi con quelle mani io pecco pecco tocco quello che non dovrei toccare rubo mi approprio le cose degli altri e quando sono dolci quando sfiorano quando accarezzano la maggior parte delle volte è per un doppio fine queste mani che si infilano nella vita degli altri queste mani che che molte volte prendono a cazzotti le persone i piedi abbiamo visto il giovedì santo bellissimi per camminare per andare verso l'alto per uscire da se stessi per camminare nella natura per andare a lavorare come come le mani come i nostri i nostri arti e invece anche il lavoro usato per noi per glorificarci per autocelebrarci per cercare di realizzare il nostro ego posso continuare la mente che ci è stata data per che sia illuminata dalla fede e possa riconoscere l'intervento di Dio in ogni evento in ogni fatto possa mettere la firma della ragionevolezza sulla straordinarietà della fede che riesce a riconoscere la fede la ragionevolezza di un amore fino alla fine e invece la mente contorta che pensa male degli altri che pensa sempre con malizia che cerca sempre nemici che vede sempre nemici che non riesce a guardare a pensare agli altri superiori a sé la bocca fatta per annunciare il Vangelo per dire parole d'amore parole di consolazione parole di tenerezza parole di sostegno alle volte anche parole di rimprovero ma con la lingua immersa nella misericordia nell'acqua della misericordia questa bocca che uccide la lingua leggete nella scrittura quello che dice sulla lingua questo piccolo membro che scatena le guerre una parola in più che non volevi dire e l'hai detta e hai distrutto una relazione hai distrutto tua moglie hai distrutto tuo figlio hai distrutto tuo padre hai distrutto la tua fidanzale hai distrutto il tuo fratello hai distrutto i tuoi parrocchiani con quella parola in più che hai detto in quell'omeria di giudizio le persone già ti guardano non confidano più in te questo questo prete perché c'ha questo giudizio perché c'ha questa lingua biforcuda perché ha detto questo per esempio e continuiamo le orecchie per ascoltare la parola di Dio per ascoltare il dolore degli altri sempre messe lì su questo facebook totale totalizzante le orecchie ascoltando i pettegolezzi le mormorazioni le calugne e lì gossip con una cognata con la nuora con la suocera con il marito con quello che sia parlando male del fratello le chiacchiere tutti i nostri sensi tutto quello che è stato colpito profondamente il corpo che è stato dato come un tempio distrutto per cui tu non sei sei ormai difforme come diceva San Giovanni Crisostomo la sposa è difforme è completamente un'altra cosa sei nato per amare sei nato per essere per vivere il tuo ministero nel dono per vivere il tuo il tuo matrimonio nel dono per dare la vita per perdere la vita per consegnare il tuo tempo per consegnare per essere per essere un vaso d'amore per essere un recipiente il tuo corpo il tempio dello Spirito Santo cioè il tempio dell'amore di Dio il tempio della rua del soffio dello Spirito Santo del soffio di Dio della comunione cercare la comunione con tutti rinunciare a se stessi questo è per questo siamo nati per questo abbiamo ricevuto la vita da Dio ma nel peccato mi ha concepito mia madre e ha distrutto tutto il peccato ha cambiato tutto ha cambiato i connotati ha fatto di noi una caricatura qualcosa che è irriconoscibile tu sei irriconoscibile questo ha visto Gesù Cristo dalla croce ha visto Antonello irriconoscibile esattamente come lui è irriconoscibile ai miei occhi questo è l'amore di Dio ma perché perché lo ha fatto io scappo io terrorizzato scappo di fronte all'orrore di fronte alle bombe ma quelle bombe sono quelle immagini che abbiamo visto di Bruxelles o di Parigi o della guerra o dei campi di concentramento sono la nostra vita la morte la nostra vita il mistero del peccato il mistero dell'iniquità che distrugge tutto che sporca tutto che rende tutto brutto ma Gesù Cristo il più bello dei figli dell'uomo per portare la bellezza originaria la bellezza l'immagine la somiglianza di Dio per riportare la verità la verità che tu sei figlio di Dio che tu sei amato che Dio è amore per questo sono venuto dice a Pilato per rendere testimonianza alla verità cioè per rendere un martirio alla verità lo dice tu mi hai fatto lo dice già distrutto e c'è uomo ecco l'uomo vero quello è l'uomo vero sì perché sei tu lui si è fatto come te si è fatto come te per 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 farti come lui si è fatto come te per riportarti al cielo per riportarti al progetto di Dio per questo scende nella tomba fratello per questo Gesù muore nella tua morte per questo Gesù ha percorso tutto il cammino all'incontrario come se tu vedessi una pellicola all'incontrario dal pensiero di Dio originario Gesù ha fatto quello che tu hai fatto diciamo andando progredendo lui è regredito lui è sceso la kenosi tu avanti tu distruggendo tu camminando sempre più seguendo le menzogne del demonio tu distruggendoti autodistruggendoti distruggendo i tuoi figli distruggendo le persone che stanno intorno a te distruggendo la natura distruggendo un paese distruggendo una comunità cristiana tu tu e lui a ritorno rewind torna indietro lui riarrotola questa pellicola prendendo tutto quello che tu hai fatto tu un passo e lui un passo indietro per prendere quello che tu hai fatto fino a che tu possa tornare con lui nel seno benedetto del padre quello che diventerà la tomba nella quale si è precipitato quella tomba quella tomba vuota silenziosa che tutti sfuggiamo di questo sabato santo questo silenzio l'iniruttabile quello che tu dai tra le mani che non puoi fare c'è qualcosa ho sbagliato potevo fare così porca miseria non posso più tornare indietro questo sentimento l'iniruttabilità questa è la morte la fine la fine di una relazione la fine di un di un progetto la fine di qualcosa cioè la fine del progetto di Dio in te la morte la morte di quello che Dio aveva pensato per te la parola fine su quello che su quello che Dio aveva ideato pensato plasmato in te questa è la morte questo è il sabato santo il fallimento di tutto fallimento peccato sapete che questa è la parola no? peccare vuol dire fallire in ebraico fallire il bersaglio fallire l'obiettivo fallire la vocazione fallire la missione fallire la vita è la morte bene Gesù è sceso fino lì in questo silenzio che ti angoscia dentro questa pietra è messa sta messa davanti questa pietra ti invito a guardare il crocifisso e guardare questa pietra chiusa che sigilla nel buio quello che tu oggi non puoi risolvere la malattia forse forse una malattia forse un cancro terminale forse sei sola sei divorziata forse forse non credi in Dio forse non vedi Dio da nessuna parte forse tuo figlio forse tuo cognato forse tu stesso si è scoperto così difforme da quello che dentro senti ancora essere la tua vocazione la tua chiamata bene questa tomba è il silenzio di oggi questa tomba questo vuoto questo freddo è l'ineluttabilità è ciò che sfuggiamo costantemente ciò che costantemente cerchiamo di eludere pur falliti cerchiamo di ingannarci facendo cose pensando cose iniziando cose inizio inizio una dieta inizio una nuova attività sportiva inizio quello inizio una nuova amicizia vado a comprare le scarpe qualsiasi cosa facciamo cose un film in televisione un post su facebook qualsiasi cosa pur di sfuggire e quindi porre sempre musiche 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 entri in un negozio musichette nella metropolitana musichette sulle scale mobile musichette sempre musichette musichette toghi sempre musichetta di fondo perché perché non puoi pensare ti fermi un attimo e dici ma bene oggi il silenzio fermati silenzio siedi solitario e silenzioso perché Dio te l'ha imposto e scoprirai che in quel silenzio in quel silenzio è deposta la vita in quel silenzio si sta preparando la tua resurrezione cioè che tu ritornerai con Cristo ad essere la persona che Dio ha pensato Gesù nel battesimo con Lui sepolto nell'acqua del battesimo con Lui nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo Dio ricrea ciò che il peccato ha distrutto il Figlio di Dio il peccato mi ha concepito mia madre ebbene il battesimo ha il potere di ricreare il Figlio di Dio pensato strappa dal tuo cuore l'origine di tanta deformazione strappa l'origine della passione strappa l'origine della croce strappa l'origine della bruttezza della bruttura della tua vita strappa ma non è possibile se non attraverso il cammino di Cristo fino all'inferno fino a riprendere Adamo ed Eva Adamo ed Eva erano lì attendendo il ritorno del Signore non potevano più come te e Dio e Gesù li prende per mano e li riporta allo splendore antico leggete l'Omelia sul sabato santo nell'ufficio delle letture bellissimo io ho preso tutto per riportarti all'antico splendore tutto è pronto davanti a te c'è una mensa allora entriamo nella veglia pasquale conservando questo silenzio questo digiuno di parole di cibo di televisione il silenzio interiore ripensando a quello che veramente oggi mi chiude dentro una tomba quello che non sopporto quello che il mio sguardo non riesce a sostenere di me degli altri ma di me di me bene lì incontrerai Cristo lì è sceso Cristo per prenderti per mano e portarti fuori alla luce della Pasqua alla luce della creazione perché Dio il Padre vedendoti unito al suo figlio risorto con lui possa dire ecco questa è l'opera molto bella molto buona strappato all'ingano del demonio rinato Gesù Cristo risorge con le piaghe gloriose perché la storia non si cancella è una storia d'amore è una passione d'amore è un patire per amore ma è tutto trasfigurato è bellissimo vedete prima non si poteva riconoscere tanto era sfigurato il suo aspetto dopo non si può riconoscere perché ha un aspetto trasfigurato un aspetto celeste qual è la verità? tutte e due fratelli e le porta impresse Cristo tutte e due le verità che stanno in te sfigurato dal peccato e costantemente trasfigurato nell'amore di Dio nel suo perdono nella sua misericordia che ti fa una creatura capace di amare che ti fa un prete capace di perdere la sua vita fa di te una madre dedicata sottomessa costantemente senza mormorare con gioia scoprendo una gioia infinita nell'essere dimenticato nell'essere all'ultimo posto nel servire nell'inginocchiarti nel perdere la vita anche in una malattia in un fallimento in una sofferenza in un dolore in una incomprensione questa è la natura di Dio che viene a prendere possesso del corpo esanime di Gesù Cristo del corpo esanime tuo a causa dei peccati entriamo in questo sabato santo entrando nella nostra realtà la vedremo trasfigurata